Buonasera signore e signori sono S88, benvenuti quest'oggi in un nuovo video ci troviamo ancora su Black Ops 4, precisamente sulla mappa Ajax con l'MX9 utilizzando l'operatrice Zero dopo la patch di all'incirca 11GB, 10GB e qualcosa che appunto è uscita tra ieri e ieri notte chiaramente il video che avete visto ieri era un pre-patch perché mi ricordo che era stato l'avevo registrato appunto qualche giorno prima di questa patch mentre il video che state vedendo attualmente è appunto un video post-patch di quello che sono andate a modificare quelli della Treyarch, dell'Activision, chiunque si siano sono andate appunto a modificare l'operatrice Zero rendendola leggermente meno potente anche se secondo me, come potete vedere da questo video, non è che risulta proprio una cosa così depotenziata al massimo sto utilizzando come score streak, come potete vedere, WAV, approvvigionamenti e contrattacco chiaramente per vari motivi che adesso vi vado a spiegare chiaramente è molto difficile chiamare score streak se pensate che uno WAV è quasi a 6 uccisioni 550 punti che tra l'altro con l'operatrice Zero ma tutti quanti sono dotati sempre di lanciarazzi che ti buttano a terra non mi va nemmeno di impegnarmi tantissimo di poter riuscire a raggiungere appunto delle score streak molto molto alte e in più chiaramente vado ad utilizzare gli approvvigionamenti perché sinceramente ti danno una possibilità su 13 quanti e 14, quante sono le score streak di poter appunto chiamare sia una score streak abbastanza banale come l'RHCXD o come diavolo si chiama ma anche delle score streak abbastanza alte come la squadra d'assalto, l'elicottero cecchino e altre varie chiaramente lì va in ballo la fortuna e quello che è appunto il vostro culo con questa patch appunto è stata modificata leggermente la funzionalità dell'operatrice Zero infatti quando utilizziamo la sua specialità con il computer e l'iSpeak è stato ridotto il tempo di utilizzo appunto del fatto che le persone siano tra virgolette scioccate o hackerate ma secondo me rimane abbastanza overpower e il perché lo vedrete tra poco perché comunque sia riesce a prendere il controllo come già detto nel video precedente anche delle score streak e delle abilità specialiste di alcuni amici tipo lo scudo di Tork se non erro forse anche il cane ma non mi vorrei sbagliare e anche i pacchetti assalto che appunto va a utilizzare Ajax Ajax che è il nome della mappa in questa partita praticamente ho giocato soltanto io nel senso che i compagni di squadra facevano come al solito pietà sotto un lag pressante infatti come potete vedere ho giocato solo sulla parte destra che è diciamo una scelta che ho iniziato a fare da un po' di partite ovvero di prendermi una zona, gestirmi soltanto quella e provare a riuscire a contenere dei compagni di squadra che talvolta come in questo video non sono proprio i migliorissimi del mondo un'altra modifica che è stata fatta appunto aggiunta a questa versione di code è stata la possibilità di utilizzare tutte le varianti delle mimetiche reattive su qualsiasi arma a patto che siano state sbloccate in questo caso qua potete vedere come nel video stia utilizzando proprio l'icefick per prendere il controllo dell'elicottero d'assalto chiamato dai nemici infatti come potete vedere inizia a fare le kill per conto della nostra squadra a parte qui che praticamente mi fucilano, mi freddano in un angolo praticamente prendiamo il controllo dell'elicottero d'assalto e come potete vedere i compagni di squadra sono totalmente inutili inizia a fare delle kill appunto per noi, piombo caldo ed è molto divertente se ci pensate in un fatto come se voi foste veramente all'interno del gioco avete un elicottero d'assalto che fino a due secondi prima vi copre le spalle poi a un certo punto cambia e voi diventate i bersagli di quelli che credevate fossero degli alleati quindi è molto molto divertente questa cosa in questi giorni praticamente tra ieri sera e questa mattina ho fatto all'incirca 3 o 4 partite in aggiunta appunto a questo che sono risultati diciamo buone per essere portati appunto sul tubo quindi presumo che in questi giorni farò altri commentari tempo permettendo e li caricherò appunto sul tubo buttando magari qualche idee qualche appunto parola così estrapolata non solo collegata al gameplay un gameplay appunto era una partita di deathmatch dura all'incirca 6 minuti quindi non è che sono partite lunghissime e come potete benissimo vedere ci sono dei compagni di squadra che al posto di pensare a combattere visto che stiamo perdendo 71 a 44 preferiscono sparare non si sa cosa ma chiaramente questo è anche il divertimento di questo videogames come viene in gergo chiamato per quanto riguarda appunto la classe che stavo utilizzando era MX9 con mirino ole o insomma il mirino quello senza reflex estrazione rapida calcio laterale e calcio se non mi sbaglio è stata una classe creata un po' così in fretta e furia anche se nei video che appunto poi vi porterò avrete delle piccole modifiche perché invece che utilizzare questa arma utilizzerò il cordite che è stato anche esso patchato secondo me segretamente ed è diventata un'arma molto molto forte a questo punto gameplay finisce come potete vedere 21-4 per noi mentre i compagni di squadra sono totalmente stati annichiliti spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un mi piace un ciao da IC88 ciao ragazzi